ok ciao ragazzi è arrivato un pacchettino da amazon redmi notte 8 lo proviamo e salutavo una persona che mi è passata davanti la vetrina comunque va bene oggi facciamo l'unboxing e una breve recensione premesso che se vi interessa il prezzo più basso che ho trovato a oggi è quello link in firma su amazon non è spedizione dalla cina la spedizione dalla cina ha aspettato un mese però ci costa qualcosina di meno ma non molto comunque detto questo passiamo all'unboxing eccolo qua come vi dicevo appunto ordinato su amazon è l'acquisto al momento era quello col prezzo più basso è anche un prime quindi arriva in due giorni arrivato di solito arriva un po più ma vabbè due giorni apriamo la scatolina e papà eccolo qui il redmi note 8 passiamo all'apertura ovviamente della scatola plastichina pum 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 la allora la prima cosa che incontriamo ovviamente è la scatola con all'interno la clip per rimuovere gli alloggiamenti della sim e della scheda sd istruzioni che non legge mai nessuno la cover che in questo caso è un po diversa da quelle precedenti come vedete a un angolino qua a probabilmente perché lì c'è il flash comunque lanco l'angolino va bene e il telefono oltre a questo nella scatola troviamo cavo di alimentazione che è un type si quindi alimentatore europeo e nella scatola non c'è più comunque ok la prima cosa che appare all'occhio aprendo la scatola e guardando il telefono è questa fotocamera gigantesca sinceramente la trovo gigantesca quattro fotocamere e poi adesso ho capito qual è quella parte dell'alloggiamento che va a non coprire diciamo lo so che non è il termine giusto comunque non coprire il flash comunque accendiamolo e andiamo a vederlo un po più nella redmi note 8 quindi uno smartphone android diciamo che per la sua fascia di prezzo è un dispositivo veramente completo il display è un ips retroiluminato quindi in tft in orizzontale 6.3 la diagonale quindi diciamo che lo schermo è ampio anche se lo possiamo andare a vedere paragonato al mi a3 come vedete è un bello schermo ampio la differenza fondamentalmente è che questo è un tft quindi non un amoled e questo è un amoled oddio se vogliamo parlare di luminosità ovviamente io non ci vedo una grande differenza anzi lo vedo un po più buio però probabilmente anche per una questione di impostazioni della luce comunque parlare del display ed appunto da diagonale 6.3 con risoluzione 2340 per 1080 pixel ovviamente il dispositivo a android 9 con la pie 10 della miui dimensioni stiamo parlando di 158.3 per 75.3 e 8.4 millimetri il dispositivo è un dual sim che dove si può inserire la doppia scheda e in più con nell'alloggiamento c'è disponibile anche lo spazio per la scheda di memoria molto utile perché usa utilizzando la dual sim allora snapdragon qualcomm 665 la motorizzazione da 260 2 giga e giga di ram in questo caso 64 di memoria c'è anche da 128 quindi andiamo a vedere quelle cose che interessano di più all'utente medio quando acquista un telefono la fotocamera 48 megapixel più 8 più 2 più 2 risoluzione 8.000 per 6.000 quindi una risoluzione ottima stabilizzatore digitale vabbè ovviamente il flash fotocamera frontale 13 megapixel più un f 2.2 particolare interessante resi registra in video in 4k 2160 p in 30 fps la fotocamera frontale quindi la parte frontale diciamo in modalità selfie in full hd 30 fps detto questo diciamo che il telefono è un ottimo telefono proporzione qualità prezzo eccezionale non ottima eccezionale come al solito redmi comunque show me che è il diciamo leader del brand fa ha fatto un prodotto alla portata di tutti economicamente ma di ottima adesso che lo ho attivato redmi not 8 andiamo un po a vedere la parte per cui ho acquistato quindi le fotocamere e i video adesso ovviamente c'è lo slow motion che vabbè ormai conosciamo tutti i breve video quelli che non ho mai capito per che cosa funziona forse per instagram o per quelle cose lì il video tradizionale diciamo che nel video tradizionale se dobbiamo fare le impostazioni si può scegliere direttamente da qui come vedete a quanto impostare il video 4k 30 fps 700 è la qualità del video si possa direttamente da qui da qua si possono andare impostare dove salva sulla posizione i suoni della fotocamera se li volete io ritrovo perché già mi dà fastidio la modalità tasca quindi non si apre se la mette in tasca lo stabilizzatore d'immagine cosa che ho lasciato e le altre varie imposte ovviamente c'è la modalità foto con le risoluzioni subito qua disponibili la possibilità di attivare l'hdr l'intelligenza artificiale e il miglioramento in macro il pasto 48 megapixel la dove alza la qualità della fotografia andiamo a vedere insieme per la prima volta come vedete avete visto con appena attivata anch'io la risoluzione in 48 megapixel è direi molto molto alta fatto il conto che adesso è stata aperta tutta completamente quindi ok anche da questo punto di vista ovviamente c'è la modalità ritratto da qui si può impostare vediamo la modalità ritratto che cosa ci fa bellezza filtri tra niente filtri andiamo a vedere la fotografia come è venuta ben ritratto poco però sono anche talmente tanto vicino al soggetto che è normale così poi queste cose ne andremo a vedere in un video successivo comunque diciamo che come appunto se comprate il telefono per la fotocamera redmi note 8 può essere il vostro telefono in firma in descrizione trovate la l'acquisto sicuro su amazon modalità prime il prezzo migliore che ho trovato se non arriva dalla cina ovviamente detto questo ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi